Don Franco, padre Franco Mella, non vuoi che ti si chiami né padre né Don, perché? Perché Gesù nel Vangelo ci dice di non farci chiamare padre, quindi in futuro la Chiesa dovrà cambiare. Come ti chiamano tra Hong Kong e la Cina? Mi chiamano Kam Chai, che vuol dire piccolo dolce. Non sei così piccolo? Appunto perché il mio nome è appunto Mella, in latino vuol dire miele, per cui mi hanno chiesto che nome volevo, ho detto prendiamo questo. Poi gli altri due caratteri sono Homong, che vuol dire grande speranza, quindi sarebbe dolce, grande speranza. Ti vedono molto bene da quelle parti? No, nel senso che io avrei voluto andare in Cina, questa è la mia grande speranza, infatti nel 91 ho potuto entrare… Allora cominciamo, facciamo un po' d'ordine, tu sei un missionario del Pime e sei da quelle parti, lassù, laggiù, per noi veramente è un mondo così compatto e anche così chiuso, così affascinante ma così sconosciuto. Hong Kong e la Cina sono due cose diverse, anche se noi le mettiamo insieme. Sei lì dal 74? Sì, nel settembre. Volevi andare tu laggiù? Sì, diciamo una storia che parte dal mio quartiere a Milano, un quartiere ticinese, avevamo tanti problemi, problemi delle case, problemi del lavoro per questi immigrati dal sud dell'Italia. Allora c'erano loro? Sì, allora era il problema… il mio quartiere era il 60% di immigrati, per cui abbiamo cominciato a interessarci con loro del problema della casa, appunto del lavoro e da lì era nata questa collaborazione con tutte le forze che si interessavano della gente di allora e c'erano questi giovani che allora avevano questi ideali della Cina che stava diventando una nuova nazione, eccetera. Allora ho detto ma perché non andiamo a vedere com'è questa Cina? Ma tu eri già sacerdote? No, 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 era ancora al seminario Pime. Perché sei entrato in seminario? E beh, dunque qui… perché una volta quando avevo 8 anni mia mamma mi ha sentito dire che io vorrei essere come Don Ezio lì dell'oratorio. Allora lei ha telefonato un po' in giro a tutti i parenti, amici e diceva che vuole andare a prete, cioè vuole andare a prete, ma quindi tutte le volte che andavo lì da loro allora va in seminario, se proprio insistete. Allora avevo 8 anni, quindi 9, poi sono entrato appunto a 9 anni nei cantori del Duomo di Milano fino a 13 anni e poi ero destinato, quindi sono entrato in seminario, però ho fatto un po' uno scherzetto dopo ai miei perché a 18 anni ho detto guardate io non sto in Italia, vado così all'estero, vado col Pime, quindi a 18 anni dal seminario di Milano a Venegono sono andato al Pime. Loro avrebbero voluto vederti parroco magari? No, soprattutto avrebbero voluto vivere con me, perché in Italia si usa così. Insomma questa minima forzatura d'affetto che ti ha portato a fare il seminario è una scelta che hai fatto tua o no? Sì, appunto a 14 anni puoi fare una scelta fino a un certo punto, in pratica la vera scelta è stata poi a 18 anni, che non è stata appunto solo una scelta, è stata un po' una voce interiore che diceva… Prima essere missionario era, l'idea prima del concilio era salpare i mari e salvare un'anima e poi morire, c'è questo eroismo di andare a piantare la chiesa, andare a salvare le anime perché tutti dovevano essere battezzati per poter andare in paradiso, l'idea generale era e poi chiaramente i teologi sapevano… dopo il concilio la missione ha preso vari altri aspetti, cioè quello che si sta dicendo anche adesso, cioè che dobbiamo essere ponti e non muri, quindi ponti fra popoli, ponti fra chiese, ponti fra culture, questo è un po' il servizio che il missionario dovrebbe fare. E che ne hai fatto della tua passione giovanile del canto? Perché tu sei un cantautore, però è un po' diverso tra Gregoriano e Palestrina dei Cantori del Duomo di Milano e le canzoni che adesso componi, scrivi, proponi album. Sì, ma questo sviluppo è avvenuto perché un amico dice, ma canti delle canzoni così che fanno tu, ma perché non fai un CD? Allora facciamolo tanto… ma è proprio ultimamente, c'è in questi ultimi anni, perché prima sì cantavo, cioè un po' in giro così, ma senza… cioè quindi è la prima volta che mi sento chiamare cantatore. Tu sei un milanese doc e anche nel modo di parlare, nelle movenze, poi sentendoti cantare, ricordi molto un milanese che è stato tuo grande amico che è Enzo Iannacci, com'è che eravate amici? È stato un caso perché lui andava a imparare karate e il suo insegnante di karate era mio amicissimo di quando eravamo piccoli, giocavamo sempre nella stessa corte, che era diventato campione italiano di karate Enzo Montanari, era venuto a Hong Kong per portare in Italia un insegnante di Kung Fu e dice, ma a te piace andare? Ma io la conosco, viene lì nella mia palestra a fare karate, allora ci siamo incontrati a casa di mio cognato, gli ho cantato una canzone che ha fatto e lui dice, a me queste canzoni in Italia non me le fanno cantare, perché era un po' diciamo… dopo sono venuti a Hong Kong e è stato bello perché una volta al piano lui ha fatto le sue canzoni, molte cose non se le ricordava, allora io le cantavo e lui faceva la seconda voce… Lui ha condiviso anche quello che tu facevi là? Sì, lui diceva io devo stare in mezzo alla gente, a me piace chi vive… quando è venuto a Hong Kong nell'86 con mio compagno Franco Cumbo del Pime vivevamo su una barca in mezzo la gente delle barche, lui è venuto giù in barca e dice, è rimasto scioccato perché nel nostro rifugio per i tifoni arrivano tutte le fogne del quartiere, proprio quel giorno che venuto giù lui c'era la bassa marea quindi c'era una puzza, lui è venuto giù e è rimasto scioccato e dice, ma uno qui scende dall'aereo, va in hotel, qui è la 5 Stelle e poi arriva qui un panfo, una roba e dice, ma come si fa? E' rimasto… Come si fa? Come si fa a vivere in queste… Ma lo chiedo a te, come si fa? Noi ormai eravamo abituati, per cui vivevamo in barca, andavamo a lavorare in fabbrica… O meglio, perché si fa Franco? Ma perché appunto per noi la persona che è in margine della società, il povero, quello che è appunto così un po' scartato dalla società rappresenta appunto la persona in Gesù Cristo, quindi noi andiamo a vivere con lui, cioè in mezzo a loro, insomma non si può vivere su una barca a nostra epoca, cerchiamo di darci da fare perché tutta questa gente possa ottenere una casa a riva. Questi loro erano ex pescatori, le cui barche ormai erano in pratica inusabili, le mettevano in questi rifugi per i tifoni, andavano a lavorare a riva e vivevano su queste barche. Quanti ce ne sono ancora adesso? Adesso basta, cioè tutto questo movimento li ha portati a andare tutti a riva, adesso è finito il movimento. Non è che però sta meglio la gente a Hong Kong, i poveri e i diseredati ce ne sono tanti? Ci sono ancora tante persone ai margini, tipo quelli che chiamiamo street sleepers, cioè quelli che vivono sulla strada, abbiamo i rifugiati, abbiamo 13 mila rifugiati un po' da tutto il mondo, abbiamo altre persone che vivono in cubicoli, perché a Hong Kong il problema della casa è veramente tremendo, cioè se uno riesce a trovare un buco con un letto in cui possa dormire è già tanto. Poi avete quelli che scappano dalla Cina? Sì, scappano dalla Cina, ma adesso ormai non è più come prima che c'era proprio la frontiera, che li controllavano, perché adesso possono venire dalla Cina col visto turistico, più che scappare vengono e poi non ritornano, però se dopo li prendono li mettono in prigione. Tu sei stato in prigione? Io no, però sono stato arrestato nel 1979, quando con la nostra gente delle barche siamo andati a fare una protesta, mentre eravamo sul pulma dice dove andate? Andiamo a fare una passeggiata, no no voi andate a fare una protesta, allora c'era ancora il governo coloniale inglese, tornate da dove siete venuti? No, non torniamo, tutti arrestati, 78 persone e via. Hai fatto un sacco di scioperi della fame, perché? All'inizio era appunto per le mogli dei nostri boat people, queste persone che vivono sulla barca, loro naturalmente da bambini essendo pescatori non potevano studiare, allora anche le ragazze di Hong Kong era difficile che li sposassero, quindi loro andavano in Cina, si sposavano in Cina, poi portavano queste mogli a Hong Kong, ma solo col permesso di andare a pescare, quindi venivano ancora, restavano sulle barche, ma non avevano il diritto di mettere i piedi a riva. E allora con loro abbiamo chiesto al governo che le regolarizzassero. Cioè non potevano proprio scendere se non arrestavano? Sì, se andavano e mettivano un piede a riva li arrestavano, ma all'inizio quando non avevano figli, vabbè potrebbero stare anche sulle barche, ma quando ho cominciato ad avere i figli, dovevano portare l'asilo, il papà doveva andare a lavorare, cosa si faceva? Allora rischiavano. Tu sei stato in Cina parecchie volte per tanto tempo? Sì, ho fatto vent'anni in Cina, dal 91 al 2011. Ma che presenza di chiesa ce l'ha? Ma adesso ormai la chiesa è piantata dappertutto, cioè sono le chiese ufficiali, cosiddette, quelle non ufficiali. Per cui noi cerchiamo un po' da fare in modo che loro possano unirsi. Sappiamo che il papà Francesco vorrebbe andare in Cina, Benedetto XVI aveva fatto questa lettera ai cattolici cinesi dicendo che anche le messe della chiesa ufficiale sono valide, per cui anche i cristiani possono andare, eccetera. Però c'è sempre anche questo problema dei vescovi, chi li ordina, chi li nomina, eccetera. E per quel problema purtroppo nel 2011, 30 di noi siamo stati messi sulla lista nera, però siamo già usciti l'anno scorso. Per un po' non potevi entrare. Tu cosa hai fatto? La insegnavi, vero? Sì, ho fatto una grande carriera da insegnante perché sono partito dall'università, poi liceo, poi le medie, poi le elementari. Che lingue insegnavi? Insegnavo all'asilo. Si è andato indietro? Ma insegnavi cosa? Inglese, cioè, sì, inglese. E si fidavano di te? Ti hanno permesso di farlo? Tantissimo, perché localmente mi hanno anche dato due premi addirittura. Hanno fatto un film su di te, hanno scritto un libro. Sì, quello è un con. Eh, ho capito, sempre... Sì, sì. Com'è che sei diventato così famoso? Perché sei un rompiscatole? Beh, non so, cioè, probabilmente c'erano questi amici che loro erano un po' dentro nel giornalismo, una regista, eccetera, così, per cui dice... No, perché ho fatto anche un anno vivendo con questi street sleeper sulla strada, no? E allora sono venuti lì e mi diceva, ma cosa fai qua? Beh, io ho provato a fare un anno sulla strada con questi street sleepers, ci alzavamo di notte a prendere queste planche di legno, poi le smantellavamo, vendevamo il legno e ci guadagniamo da vivere così, per cui... E' proprio nell'anno del Tiananmen, l'89. Perché hai fatto questa scelta? Non è anche un po' presumere di sé, provare il peggio del peggio del peggio? Sì, ma Milani dice che bisogna presumere di sé, cioè bisogna essere, diciamo, in un certo senso orgogliosi di potere, diciamo, fare quello che è possibile fare, cioè tutto quello che non è proibito è permesso, per cui se tu senti questa voce dal di dentro che devi vivere in questo modo, avanti... Non è che hai tradotto Don Milani in cinese? Sì, abbiamo tradotto Don Milani perché nel 2002, venendo in Italia, l'ex sindaco comunista del mio paese dice, ma tu parli sempre di Don Milani, ciao ti porto io, andiamo... E allora siamo andati a Barbiana con mia zia e mia mamma, ho visto la tomba di Don Milani, poi siamo andati giù a Vicchio, c'era Danny Banchi del gruppo, c'è l'informazione Don Milani, dice, ma tu vieni da Hong Kong, ma allora abbiamo tradotto lettera di una professoressa in tutte le lingue, manca il cinese, dai, allora cosa facciamo? Ma si riesce a far capire Don Milani in Cina? Sì, guarda, ultimamente, cioè la lettera di una professoressa bisogna leggere la pagina per pagina, cioè non puoi adesso come oggi, sai, usano fare questi, leggere i romanzetti e non puoi leggerla così, soprattutto se puoi in cinese, devi leggerla pagina per pagina, però proprio un mese fa è venuta una, diciamo, la segretaria un po' di una parrocchia dove c'era un altro dei nostri del Pime che è andato via e ha detto, gli ha lasciato, ho letto un professoressa in cinese, ma ha telefonato e dice, ma è una cosa stupenda, una roba meravigliosa, io ho capito tante cose, adesso mi devo fare la catechesi, soprattutto ai giovani, così, è una roba, ha detto, guarda che c'è anche un altro libro, si, si, vengo subito, domani mattina, che ora, dove sei? È venuto a prendere l'altro, l'obbedienza. Si riesce a comprendere, parla delle stesse cose, si tocca il cuore dell'uomo anche là. Nonostante che sia stato scritto, appunto, negli anni 60, in un ambiente italiano molto diverso da quello attuale, ma i principi sono fondamentali, fra l'altro noi abbiamo fatto due scuole seguendo questo spirito della scuola di Barbiana, una con i Bopipolo, allora, a Yamate, mi hanno fatto una scuola, perché loro erano più di metà in alfabeti sulle barche, abbiamo fatto una scuola cattolica, dopo tre anni ci hanno detto, no, no, andate e tornate in barca, perché? E' perché voi non insegnate a leggere schiere, voi insegnate a lottare per la casa, quindi torniamo al nostro paese. Poi l'altra invece l'abbiamo fatta nel 2002 per queste famiglie cinesi, i cui genitori erano in Hong Kong, i figli nati in Cina e dopo il 1997 avrebbero dovuto ricongiungersi, solo che il governo di Hong Kong e il governo cinese hanno detto, no, sono troppi, sono più di un milione e mezzo e quindi… e allora abbiamo cominciato questo movimento che dura tuttora per la riunificazione delle famiglie, 18 anni di lotte varie, di movimenti, sitini… Sì, io ti ho visto infilmati da televisione di Hong Kong con la bandana in testa, quella maglietta cosa vuol dire? Questa maglietta vuol dire Umbrella Revolution, che è stato un po' il riassunto di tutti i movimenti per una nuova società in Hong Kong. Cosa c'entra l'ombrello? Un ombrello perché… beh, bisogna spiegare tutta la storia in breve, perché quando c'è stato questo grande assembramento della gente nella strada principale di Hong Kong, la polizia ha attaccato anche con i pepper spray e con i gas lacrimogeni e per difendersi annusavano le ombrelle, cioè quando buttavano il pepper spray, quindi migliaia di questi manifestanti particola. E allora l'hanno cambiata Umbrella Revolution, c'era anche una wall, una parete che si chiama Lennon Wall, perché c'era il pezzo di imaging di Lennon Wall, you can say I'm a dreamer, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. E allora lì attaccavano tutti le loro speranze per una Hong Kong diversa, democratica, per una Cina libera, democratica, eccetera. E allora l'hanno chiamata Umbrella Revolution, cioè quindi noi da allora abbiamo detto la messa sul posto tutte le domeniche, anche adesso continuiamo dopo tre anni, l'Umbrella Revolution messa, cioè per strada e sostenuti anche appunto dal Cardinal Zen, da quelli che… Che è tuo amico? Sì, siamo amici, anche perché durante questo movimento della riunificazione familiare lui ha cominciato a impegnarsi nella società di Hong Kong, è andato in prigione a trovare questi ragazzi che lottavano per ricongiungersi ai genitori, eccetera. Chi viene alle tue messe, alle messe che celebri, padre Franco? Dunque io dico le messe nelle comunità normali con 200-300 persone così in chiesa, poi abbiamo queste messe un po' particolari che diciamo nel parco, questa qui è la Lennon Wall, eccetera, naturalmente sono gruppetti piccoli, diciamo una decina, una quindicina di persone, però continuano domenica per domenica. Poi abbiamo anche messe particolari, per esempio per le Filippine, le badanti che ci sono a Hong Kong… Sono tante? E 200 mila. 200 mila badanti? Quasi tutte cattoliche, quindi sono anche da seguire, perché i cattolici di Hong Kong sono 300 mila cinesi, quindi con loro 200 mila si arriva al mezzo milione, eccetera. Poi c'è tutte le badanti indonesiane che però sono musulmane, quindi… e allora ci si trova anche con loro, eccetera. Poi a questa nostra scuola adesso ultimamente abbiamo avuto la presenza di molti immigrati, rifugiati anche dall'Africa, America Latina, Medio Oriente ed è stata molto feconda questa loro presenza perché anche i cinesi di Hong Kong che vengono la nostra scuola hanno regalato questa mentalità internazionale, aprirsi al mondo, aprirsi le varie culture, le loro lingue. Noi abbiamo più di 10 lingue adesso, incluso l'arabo, il kiswahili, poi il giapponese, lo spagnolo in America Latina. Ultimamente sono arrivati i 4 russi, abbiamo cominciato a fare anche il russo, quindi abbiamo tutte le più grandi lingue del mondo, però anch'io adesso come uno scolaretto vado lì a studiare queste nuove lingue e mi accorgo che più entri in una lingua e più diventi giovani, il cervello si ringiovanisce, ti senti più, non so come dire, probabilmente è veramente la presenza dello spirito che ci ha mandato questi rifugiati, per cui i rifugiati sono una grandissima ricchezza, in qualsiasi posto vadano, perché non sono un peso, sono valutati per quello che sono, una persona è sempre una ricchezza, è sempre un tesoro. È difficile essere sacerdoti, essere missionari in tutti i paesi del mondo probabilmente e rapportarsi col potere, si corre il rischio di essere strumentalizzati da parti diverse, di essere afferrati dall'ideologia, come si fa a mantenere la barra dritta e ricordarsi sempre perché uno è lì? Siamo strumentalizzati dal Vangelo, il nostro ideale è quello del Vangelo, quindi ci si riferisce sempre ai valori evangelici delle beatitudini, del discorso della montagna etc. e secondo questa dimensione evangelica si valutano poi i contributi di altre culture, di altre ideologie, di altre religioni, se sono a sostegno dei valori evangelici perché no, si fa questo dialogo continuo. È facile dialogare con tutti? Col potere no, sono sempre in alternativa al potere. Con tutte le religioni? Dipende dai posti dove siamo, noi per esempio a Hong Kong abbiamo una grande dialogo con i protestanti, in pratica certe volte siamo molto più vicini a alcuni gruppi di protestanti che altri gruppi di cattolici, cioè nel senso che sui valori… Col buddismo, con l'induismo, con l'islamismo, abbiamo questo dialogo con le persone che conosciamo, che vengono a scuola… Quindi che nasce dall'incontro. Dall'incontro personale, per cui i loro valori certamente sono grandissimi. Senti è vero che hai come reliquia il libro di un missionario del Pime che è stato ucciso in Ciena. Sì, fratto io vorrei tornare lì a vivere, dove sono stati uccisi sei nostri missionari del Pime, quattro insieme in un posto che si chiama Tin Tsun. Siccome il gruppo di Colere veniva a trovare questo, diciamo, in posto, dei posti dove era vissuto questo missionario che è morto a 27 anni, allora mi ha chiesto, non puoi trovare del materiale perché vogliamo procedere con la, diciamo, la procedura per la canonizzazione. Allora io ho chiesto ai preti locali, dice sì, sì, c'è lì qualche libro. Ho stato vedere c'era una biblioteca, l'avevano messa in cantina, tutti dei nostri vecchi missionari del Pime e fra questi libri ho trovato dei breviari di questi missionari uccisi a Tin Tsun, tutti sotto i 40 anni più o meno e poi anche quei libri di un altro missionario di Milano che è stato battezzato nella mia parrocchia, fra l'altro, che si chiama Carlo Snaghi, che è stato sepolto vivo proprio il 2 febbraio del 42, però abbiamo aperto due localini, mi ha fatto una cappellina, quindi vediamo se… Riuscite a celebrare la messa? Sì, adesso in Cina, cioè non c'è una Cina, ci sono mille Cine, cioè dipende molto dal posto dove sei, in una chiesa puoi concelebrare, anzi ho vissuto in una chiesa per due anni in Cina, puoi concelebrare, puoi fare tutto, in un'altra no, non puoi neanche dire, non so, concelebrare una volta, per cui dipende molto da chi dirige l'ufficio affari religiosi o questa, diciamo la OIQOVUI, che è l'associazione dei cattolici patriottici, per cui dipende molto dal posto, cioè devi adattarti, qualsiasi posto tu vada, vedi com'è la situazione, poi quello che puoi fare fai, quello che capisci che non puoi andare oltre certi… Cos'è che desideri di più Franco? Dopo tante battaglie, al di là di tornare in Cina? Sì, appunto, il mio desiderio più grande è quello di poter andare in questo villaggio e vivere lì con i contadini, negli ultimi, non so quanto mi rimane, negli ultimi anni. Con loro canti? Per loro canti? Sì, ho fatto i canti mandarino, in cantonese, in inglese, poi un po' tutte le lingue locali, ho fatto anche uno in africano, in Kiswahili, perché avevamo una signora a cui hanno portato via la bambina, il governo di Hong Kong, dice lei non poteva educarla, allora ho fatto questo canto per questa bambina. Perché non poteva educarla? Che dice che lei era tossicodipondente, allora il giudice ha detto la diamo in adozione a un'altra famiglia, allora no, gli ho detto, è un momento, vediamo. Allora abbiamo trovato la scappatoia e dire bene, allora sua nonna fa il processo di adozione, e quindi dall'Uganda il ministro degli esteri si è messo in contatto con la social welfare di Hong Kong. Secondo te doveva stare con sua mamma? Sì, io vado a trovarla tutte le settimane, però non me la fanno vedere da sola perché dice tu rappresenti la mamma, hanno già detto, allora devo andare sempre con una social worker, cioè in pratica loro non vogliono che parli della mamma, insomma sono situazioni veramente assurde, dico ma datela in affido, cioè a una famiglia quando ha 18 anni, no, perché se andiamo in affido la mamma può stare qui in Hong Kong e noi vogliamo mandarla via da Hong Kong, eccetera. Cioè a Hong Kong quello che vale è la regola, la legge, la legge, San Paolo dice che la legge tante volte uccide le persone, per cui noi andiamo al di là della legge, quindi l'obbedienza non è più una virtù, quando l'obbedienza non è più una virtù, noi come missionari cerchiamo di fare delle cose o di andare nei posti dove i preti diocesani e così di solito non vanno oppure fare delle cose che loro non fanno. Anche in mezzo alle fogne. Sì, cioè in mezzo appunto anche a queste baraccate, adesso c'è meno baraccati, però il problema della casa è sempre un problema grave, cioè in Hong Kong, anche perché purtroppo c'è questa alleanza ibrida tra quelli che detengono il potere nella Cina continentale e i grossi capitalisti di Hong Kong che hanno in mano tutta l'economia, le case, eccetera. Quindi pur avendo case vuote che potrebbero usare, detengono lì vuote per tenere i rifiuti alti, per cui è una roba. Canta per noi. Ecco, allora facciamo questa canzone che è un po' riferita a Portavis Card de Tennis, però l'ho fatta in un giorno quando ho sentito che questo nostro amico che viveva sulla strada era morto, assiderato, fra l'altro non so, per cui… Grazie Franco. La 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 la, la 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 lì, la 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 la, la 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 la. Te se regni a pe, la cantoni to' gente to' vengherė in più in spassa mia dalla guerra. Te giura dei trampe in quei corsi, per darci un amore alla vita, ma quando sei arrivato, e sei malato andi, detisi, d'entere in ospedale, subite il primdi, e ferra da l'ospedale, e sei reputi senza forza, senza mis, senza niente, senza amore, come un cane sulla strada, ma il tuo cuore batteva, lui si chiamava Foggio, Foggio, come il pane. Te seti indurmentà sul marciapene, la freddo e la dure, a Turengion Calabrina, te sogna che il tuo gente, il tuo bene, te camminava e l'incontra, ma quando il se faccia, ti chiamava, e a Turengion, se chiamava, e l'evasino, ti chiamava, e l'Apeo, C'è l'adam e più senza vita, senza piacere, senza niente, senza amore Come un can su la strada, ma il tuo cuore è matrimo amore Fogli un bulcum e il pan, e il tuo cuore è matrimo amore Fogli un bulcum e il pan, zan 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 Fogli un bulcum e il tuo cuore è matrimo amore